Tra i primi in Italia ad avere l'accreditamento del Ministero della Giustizia, il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze ha gestito più di 6.000 casi dal 1998. Iniziare una mediazione in Camera di Commercio di Firenze è semplice, conveniente e rapido. La domanda si può presentare online, la tariffa parte da meno di 50 euro e la conclusione arriva entro 90 giorni. L'accordo è titolo esecutivo, quindi consente di tutelare i propri diritti evitando qualunque tipo di procedura giudiziaria. Vantaggi fiscali si applicano a cittadini e imprese che utilizzano la mediazione. Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze ha come primo punto di riferimento le esigenze delle parti e dei professionisti che le assistono. Per questo il calendario degli incontri, le modalità di svolgimento e tutti gli altri aspetti della procedura sono gestiti insieme con l'obiettivo di favorire il raggiungimento dell'accordo. Punto di distinzione è anche la formazione dei nostri mediatori, grazie a percorsi più approfonditi rispetto a quelli previsti per legge e individuati secondo le reali necessità emerse nello svolgimento delle mediazioni. Tutti i professionisti iscritti nell'elenco dei mediatori operano per la Camera di Commercio di Firenze da molti anni e hanno avuto modo di sviluppare le loro competenze insieme a quelle del Servizio di Conciliazione. La mediazione è un metodo di risoluzione efficace, veloce ed economico. Ricordiamo che nell'ultimo anno la Camera di Commercio di Firenze ne ha risolto 500. Noi ne vorremmo molte di più e siamo qui anche per questo, per ricordare che noi, quelle che abbiamo soddisfatto, in 90 giorni sono state trovate soluzioni, quindi un tempo veramente utile per le nostre imprese. Ricordando anche abbiamo 47 mediatori accreditati dal Ministero del Grazie e Giustizia in diversi settori ai massimi livelli di preparazione e aggiornamento, per cui hashtag usate la mediazione.